Per RKO dall'altra parte del telefono c'è Massimo Zamboni. Ciao Massimo, come stai? Ehi, buongiorno, buongiorno a tutti. Sto bene, siamo presi dalle prove di CCCP e tutto il resto, siamo in un periodo molto indaffarato, ma insomma tutto molto bene, direi. Io entri subito nel merito di questa nuova avventura musicale, parallelamente appunto ai CCCP tua personale. Ecco, io per esempio, io vengo dal sud Italia, ho viaggiato tantissimo, ma sono legato alla mia terra, alla sua cultura, alla sua bellezza, ma anche alle sue bruttezze, perché ci sono anche. Ecco, spiegami qual è secondo te il concetto di casa, il concetto di patria? Beh, un concetto occorre diciamo una certa età forse per ragionare su questo, perché ci sono, per un lungo periodo nella vita di ognuno di noi c'è l'idea di cercare l'altro, l'altrove, l'inconsueto, cioè di andare a vedere in giro per il mondo quali sono le nostre possibili patrie e se ne trovano, io stesso ne ho trovate parecchie in Mongolia, Berlino, in Bretagna, in tante volte. Però poi alla fine ti rendi conto che, insomma, è sempre una via di fuga, no? Noi dobbiamo fare i conti con la nostra lingua, la nostra terra, la nostra discendenza, le genealogie, i luoghi che ci hanno generato e lì si giocano i conti quelli veri, quelli che chiamiamo case. Mi è capitato di scrivere in un libro, Leco di uno sparo, che case è il luogo dove riposano i nostri morti, perché altrimenti rimane questo cosmopolitismo un po' così, a basso prezzo, non molto economico, che ci lascia scegliere quello che sarebbe meglio per noi, ma in realtà abbiamo dei legami profondissimi, antichissimi, che ci tengono ancorati nel bene e nel male, intendiamoci. E spesso sono i nostri morti, la nostra discendenza, quello che ci porta a questo ancorarsi. Però esistono anche le patrie estere, come quelle di cui parlo in questo album, di cui andiamo a chiacchierare. Esatto. Anche se poi andare via porta con sé qualcosa di, non so che, di malinconico, no? Questa linea sottile tra l'abbandono e poter dire anche la scoperta. Poi ad oggi, in qualche modo, chiamandole in modo generico alle migrazioni, sono ovviamente diversificate, no? Da una parte abbiamo nuove generazioni che cercano soluzioni lavorative probabilmente migliori, dall'altra magari gente che scappa dalla propria terra solo per il fatto di voler sopravvivere. Quindi ci sono un po' degli equilibri diversi, no? Oppure cosa ne pensi? Beh, sono molto diversi. Pensiamo che le generazioni, quelle dei nonni più che dei padri, quelle che hanno emigrato dal sud Italia, ma anche dall'Emilia, intendiamoci, verso un lavoro, verso un futuro un po' migliore. Lo facevano senza conoscere la lingua, senza cultura, senza niente, veramente all'avventura, fidando solo nelle proprie braccia e nell'intelligenza o nel soccorso di chi era già là. Adesso molti partono sapendo 3-4 lingue, 5 lingue, avendo una laurea, due lauree e spesso si trovano peggio di come si sono trovati i nonni, no? Perché questa grande bolla di sapone che ci fa sembrare che sia tutto facile dalle altre parti tante volte si rivela non essere affatto così. Parlami adesso ovviamente di questo progetto artistico nato in Svizzera, cioè che rimarrà una chicca praticamente perché hai giurato che non ne lo fai uscire. E quindi raccontami com'è nata l'idea, com'è andata e come mai hai scelto di non pubblicare il disco. Beh, è nata da un invito della Radio Svizzera di Lugano, quella di andare a registrare nei loro meravigliosi studi una canzone che avesse a che fare con l'emigrazione, con lo sguardo verso la tua terra però da oltre frontiera. Lugano ovviamente è a pochissimi chilometri dall'Italia, quindi è il luogo perfetto per questo genere di ragionamenti ed è uscito questo album con canzoni che avevo già applicato, riarrangiate completamente in altra forma, con un paio di cover che mi premevano molto e che ho deciso di non pubblicare, di tenerlo molto intimo, così come un po' da una parte come Contra l'Altare per questo grandissimo clamore che ha circondato i CCCP in questo ultimo periodo e avevo voglia di qualcosa molto a tu per tu, cioè veramente di molto intimo, quindi quest'album si trova solo tramite il sito di un'associazione culturale che si chiama Rizosfera, oppure si trova ai miei conferti, oppure non si trova. E va bene così, nel senso che un album nato in questo modo, non cerca i favori della stampa, non cerca un suo pubblico, cerca uno sguardo molto ravvicinato con le persone. Per cui io molto volentieri lo regalo, lo porto ai concerti, eccetera, eccetera, però mi va di fare questo, credo che sia istinto la cosa più sensata. Ecco, poi live, tra l'altro, ho visto il video, è una situazione molto bella, molto intima, anche live è stato molto interessante, però volevo chiederti, dato che hai citato poco fa, hai tirato in ballo le due cover, nei tuoi libri, nelle tue composizioni, c'è sempre un legame forte con la musica popolare, in suoi stilemini, potrei chiamare così, come se fosse proprio una chiave di lettura per poter spiegare la vita quotidiana, come mai? Beh, un po' perché ci siamo tutti formati da questo, diciamo il mondo anglosassone ha avuto la grandissima fortuna di basarsi sulla musica popolare, noi abbiamo preso i loro stileni, quindi difficilmente ci leghiamo alla nostra musica popolare, lo sentiamo più vicino al blues che non al canto popolare italiano, è un po' paradossale, però io ricordo perfettamente che nel momento della mia crescita e quella della formazione di così tanti anni fa, ormai le due canzoni che ho messo in questo album, cioè i treni per Reggio Calabria di Giovanna Marina e vedrai com'è bello di Gualtiero Bertelli, erano canzoni vocali, erano quelle che mi sapevano spiegare il mondo molto meglio di Led Zeppelin o Pink Floyd o mille altri gruppi fantastici che poi ho conosciuto, però il vero scardinamento è stato questo, avvicinarsi a quel genere di musica e quindi se parli di partner, di viaggi, di andare via, io credo che bisogna farlo con quelle voci, con quei suoni, con quell'intenzione. Sì, poi mi ha colpito anche il fatto, per esempio, prima parlavo di malinconia, sorella sconfitta, malinconia, però poi c'è un'apertura positiva degli insegnamenti che tutto ciò può dare, è interessante, ci sono appunto questi equilibri all'interno di questa nuova composizione che mi piacciono molto, poi scherzavo poco fa, ti ho detto che sei superattivo come sempre, bestiario selvatico, la mia patria, hai fatto di tutto, poi ritorno appunto di CCCP, al volo ti ringrazio ufficialmente poi in diretta per avermi fatto vivere questa emozione fortissima del concerto a Berlino, ma voglio chiederti, l'emozione di salire sul palco dell'Astra, eravate visibilmente emozionati, com'è stato? Ma è stata una delle cose più particolari che ci siano mai capitate, perché il pubblico ha viaggiato insieme a noi, nel senso che sull'aereo erano un aereo pieno di italiani che venivano a vederci a quel concerto, è stata un po' una trasferta epocale per tutti, nel senso che non era soltanto andiamo ad ascoltare CCCP, ma andiamo a, non so come dire, a costruire una cosa assieme, era questa idea di mondo che si trasloca e che va a conoscere una città che non è più quella che raccontavamo tempo fa o che tutti si immaginano, e l'Astra è proprio un avamposto di una Berlino che non c'è più e che sparirà a breve, insomma e in tanti hanno avuto la sensazione di partecipare a quell'ultimo pezzetto di mondo, è stato molto forte, è impressione. Infatti, esatto, io tutt'oggi, ripeto, sono veramente contento di esserci stato, ma domanda, adesso ovviamente siete in tour con i CCCP, noi ci vedremo poi quest'estate, ma invece il, diciamo, andare via rimarrà questa incisione che appunto ti porti durante i concerti, ma non rifarai mai dal vivo questa cosa, oppure no? No, no, anzi, mi affermo la volontà a farlo appena mi lasceranno lì, perché vorrei fare sicuramente un tour in Svizzera per ringraziare l'ospitalità. Stiamo portando in giro queste canzoni in trio, quando capita, e capita abbastanza spesso anche nelle pieghe dei CCCP, poi dall'autunno-inverno in cui confido di avere un po' più di libertà e di tornare in me, vorrei portarle in giro, più che si può, questo è un mondo musicale di cui sono molto legato. Perfetto, questa è una bella notizia. Va bene Massimo, io ti ringrazio veramente tanto. Io per la primizia, non ho ancora parlato di questo album, credo con nessuna. Grande, questo è un grande onore. Allora un saluto a RKO da Massimo Zamboni, grazie per l'ospitalità, e ci vedremo presto in molte diverse forme.